Musica Noi della piccola bottega siamo un'associazione e organizziamo attività didattica all'aperto con essenza animali Oggi nello specifico stiamo facendo un laboratorio con i ragazzi di turismo in Molise e meteo in Molise che riguarda nuvole e dintorni, quindi tutto quello che riguarda il cielo, le nuvole e tutto ciò che ci circonda La bellezza dei bambini è quella di comprendere anche i concetti più difficili della meteorologia e farli propri e riuscire poi a spiegarli in maniera semplice e facile a tutti quanti Il sole si riscalda l'acqua, le corcelline dell'acqua salgono il cielo, evaporano e si formano le nuvole e poi le correnti d'aria spingono le nuvole e possono cadere pioggia, neve e grandi Musica Abbiamo deciso di rascorrere questa giornata qui a Fornelli per conoscere il borgo per vivere un po' insieme a questi animaletti, asini, poni eccetera e per partecipare al workshop sul meteo perché molto spesso con mia figlia ci chiediamo il perché si formano le nuvole, il perché piove, il perché ci sono gli arcobaleni eccetera e oggi ce l'ha svelato il nostro Paolo Questo tipo di attività possono essere utili per i nostri bambini sia per una questione di amicizia sia per riscoprire magari delle tradizioni che nel quotidiano abbiamo abbandonato Grazie per la visione! Grazie